Sono stati firmati a Cosenza gli accordi di programmazione relativi ai PISL, i piani integrati di sviluppo locale, dedicati ai comuni che presentano minoranze linguistiche. L'obiettivo primario è quello di realizzare opere ed infrastrutture che aiutino a limitare lo spopolamento delle aree e a mantenere le piccole comunità, che in provincia di Cosenza sono 37 e tutte con meno di 1500 abitanti. Da oggi hanno nella loro disponibilità delle risorse ingenti, sono più di 15 milioni di euro che potranno utilizzare per la realizzazione di opere, servizi, strutture e infrastrutture utili per arginare il triste fenomeno dello spopolamento. In questa comunità le piccole amministrazioni hanno avuto il merito di puntare su tutta una serie di opere che vanno dalla realizzazione di centri di accoglienza, di centri polifunzionali, della valorizzazione dell'investimento in attività di riscoperta degli antichi mestieri che in prospettiva possono conquistare per quelle comunità nuovi abitanti e nuovi cittadini. Siamo soddisfatti perché in una fase nella quale purtroppo mancano le risorse, l'amministrazione regionale ha il merito di aver incanalato finanziamenti cospicui nei confronti a vantaggio di quelle realtà che storicamente non li hanno quasi mai ricevuti. Entro il 31 dicembre 2015 dovranno essere realizzate le opere previste dai diversi progetti. Si parla dunque di tempi brevi per la loro frizione da parte dei cittadini. Grazie.